Kraken è indubbiamente uno dei migliori exchange in circolazione, massima sicurezza ed è addirittura dotato di una licenza bancaria. Su Kraken è possibile sia acquistare e vendere cripto in euro addirittura con bonifico istantaneo e commissioni estremamente vantaggiose, è possibile anche acquistare cripto utilizzando altre cripto e infine è possibile anche attuare un'operatività speculativa grazie alla piattaforma Kraken Futures che anche io stesso non conoscevo molto bene e ma piacevolmente stupito. Infine è possibile utilizzare il servizio di staking messo a disposizione da Kraken per ottenere un'interessante rendita passiva su molte coin. Oggi vediamo Kraken dalla A alla Z, quindi vi farò il mio solito mega tutorialone dove andiamo a trattare tutti i punti importanti dall'apertura dell'account alla messa in massima sicurezza a tutta l'operatività che si può ottenere spiegando le tipologie di ordine, quali commissioni hanno, come si può acquistare e vendere cripto, insomma tutto quello che si può fare su Kraken. Poiché il video sarà lungo e approfondito in descrizione vi lascio tutti i minutaggi con gli argomenti così potete saltare all'argomento di vostro interesse se non vi volete sparare tutto quanto il video. Inoltre vi lascio come di consueto il mio referral link se vi volete iscrivere su Kraken e volete riconoscermi qualcosa per voi ovviamente a costo zero. Vi ringrazio di cuore se deciderete di farlo. Ora tenetevi forte che andiamo a esplorare bene Kraken. Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Sono sicuro che Kraken non abbia bisogno di presentazioni in quanto è universalmente riconosciuto come uno degli exchange più sicuri nonché al 100% regolamentato e addirittura dotato di una licenza bancaria. È uno dei pochi exchange che è riuscito ad ottenerla. Quindi oggi ci concentriamo sull'utilizzo dell'exchange e sulle sue funzionalità partendo dalla prima in ordine ovviamente di quelle con cui ci si trova a che fare che è la registrazione dell'account e la sua messa in sicurezza. Per registrare un account bastano pochi minuti è sufficiente mail e password e in seguito la verifica d'identità consueta. Si può utilizzare un documento tra carta d'identità, patente di guida oppure passaporto. In questo periodo ci sono molti nuovi utenti che stanno creando l'account quindi ci potrebbero volere un po' di giorni per aver terminato la verifica dell'identità. Io vi sconsiglio di iniziare a utilizzare fare movimenti sul vostro account prima della verifica perché rischiate poi di trovarvi bloccati. Ci sono insomma moltissimi limiti quindi ripeto conviene attendere la verifica dell'identità prima di fare qualsiasi movimento. Poi la seconda cosa da fare dopo aver creato l'account e dopo lo sblocco del nostro account è metterlo in sicurezza. È assolutamente fondamentale massimizzare la sicurezza dell'account. Fortunatamente Kraken ha un livello di sicurezza molto alto ed è molto semplice da implementare. Se voi andate sul vostro menu a tendina del profilo e cliccate sicurezza voi potete già da qui entrare nelle varie sezioni oppure venire catapultati nel menu proprio sicurezza che include le medesime sezioni. Panoramica della sicurezza vi mostra un po' gli ultimi login, da dove provengono, gli indirizzi IP eccetera che non ci interessa più di tanto vederlo e per privacy ovviamente non vi mostro i miei. Poi impostazioni dell'autenticazione a due fattori fondamentale, global settings lock importante anche quello. Adesso vediamo il perché. Autenticazione a due fattori è la classica che prevede al login e all'esecuzione di particolari operazioni più sensibili la richiesta oltre che della password nel caso del login anche dell'autenticazione a due fattori che può essere attenzione con il classico Google Authenticator oppure con la YubiKey. Cosa molto consigliabile se uno ci tiene a massimizzare la sicurezza. La YubiKey è una chiavetta usb sostanzialmente che fa appunto da autenticazione a due fattori. Costa pochi euro, non mi ricordo quanto ma nell'ordine di una decina di euro e secondo me è un investimento che vale sicuramente i soldi spesi proprio perché massimizza la sicurezza. In alternativa è consigliabile utilizzare Google Authenticator. Fortunatamente io credo che qui non permetta neanche di utilizzare l'autenticazione a due fattori via sms perché è assolutamente poco sicura. In ogni caso la si può abilitare all'accesso che è assolutamente obbligatorio altrimenti non vi permette neanche di depositare fondi bravo Kraken su questo. Sul versamento e prelievo tra parentesi ce lo aggiungo io ovvero ogni qualvolta viene fatto un deposito viene creato un nuovo address per depositare cripto oppure si chiede un prelievo insomma qualsiasi movimento di fondi chiede l'autenticazione a due fattori consigliabile anche questo perché ha un livello di sicurezza in più. Trading ecco questo è un po' più scomodo e secondo me non necessario vi chiede l'autenticazione a due fattori ogni qualvolta viene piazzato un ordine è un po' troppo ripeto se ogni volta che uno mette un ordine deve fare l'autenticazione a due fattori e uno opera con frequenza non bassa diventa abbastanza scomodo io lo farei soltanto nel caso in cui magari so che non opero per un mese allora lo attivo così giusto per avere un livello di sicurezza in più. Poi c'è la master key la master key ecco è un po' complicata forse da capire all'inizio è un'autenticazione a due fattori parallela a queste che abbiamo visto finora immaginatevela come il seed del vostro wallet ok in sostanza chi ha la master key che è ripeto impostabile anche in questo caso sia con YubiKey che con Authenticator che addirittura una password assolutamente sconsigliabile a mio parere chi ha questa master key può bypassare l'autenticazione a due fattori può recuperare la password chiedendo il password reset insomma può fare delle operazioni di un livello molto sensibile dal punto di vista della sicurezza quindi va protetta a costo della vita perché è molto molto preziosa come se fosse ripeto il seed del nostro wallet è il suo equivalente di kraken anche per la creazione dell'api è penso obbligatorio addirittura ma se non lo fosse è assolutamente consigliabile impostare l'autenticazione a due fattori. Poi abbiamo questo global settings lock che è un blocco che nel momento in cui lo attivo impedisce la modifica alle impostazioni dell'account e inoltre nasconde le informazioni sensibili molto molto comodo per quando ad esempio si vuole congelare alcune funzionalità dell'account come il generare indirizzi per il prelievo ecco lo si congela allo stato attuale una volta che viene richiesto lo sblocco del global settings lock passano un tot di giorni impostabili a piacere ok di default tre giorni quindi io richiedo lo sblocco tre giorni dopo mi viene sbloccato questo è un livello ulteriore di protezione dell'account in caso di manomissione o qualsiasi altro hack e attenzione perché qui torna in gioco la master key se abbiamo la master key possiamo sbloccare istantaneamente anche il global settings lock ok quindi questi sono tutte le impostazioni di sicurezza disponibili su kraken il consiglio ovviamente è di utilizzarle tutte quante è un po più impegnativo bisogna essere concentrati organizzati però ovviamente capite bene che si tratta di sicurezza di un conto bancario è esattamente come se fosse un conto bancario ora che abbiamo fatto il nostro account e l'abbiamo messo in sicurezza andiamo a vedere come depositare fondi e fare le prime operazioni di acquisto innanzitutto per andare a vedere il nostro account il nostro balance quanto abbiamo in fondi andiamo su versamenti e vediamo il nostro prospetto con tutti i controvalori necessari da qui possiamo anche depositare o prelevare partecipazione a una traduzione non perfetta di staking quindi questo lo vediamo più avanti adesso concentriamoci sul deposito e sul prelievo se noi vogliamo andare a depositare euro che è la prima cosa che presumo uno voglia fare per operare su questo exchange semplicemente clicchiamo deposito una volta cliccato deposito veniamo reindirizzati a questa pagina dove vediamo che dobbiamo scegliere un metodo di deposito e per il primo deposito abbiamo alcuni alert ovvero ci sarà un blocco i prelievi di 72 ore per il primo deposito fiat quindi noi facciamo un deposito e i prelievi dopo questo deposito per tre giorni sono bloccati per motivi di sicurezza compliance e varie cose ciascun deposito di valuta fiat euro successivo entro 72 ore dal primo sarà anch'esso bloccato quindi dopo il primo deposito in sostanza per tre giorni non posso accreditare altre somme o prelevarle ripeto è motivo di compliance mentre i fondi depositati nel frattempo li posso comunque utilizzare quindi il blocco è solo sugli ulteriori prelievi o depositi scelta del metodo di deposito allora con la verifica di identità di primo livello poi si può fare quella di livello successivo che alza ancora i limiti e prevede la verifica dell'indirizzo ok e altri dati tipo il reddito eccetera eccetera classici dati bancari no che vi chiedono anche nell'apertura di un conto in banca per una verifica di primo livello il massimo deposito è di 100 mila dollari ovvero 88 86 mila eccetera eccetera euro ok livello intermediate nei limiti mensili invece abbiamo 500 mila dollari e il suo controvalore in euro che insomma calcolatevelo voi metodo di deposito ripeto scegliamolo allora come vedete possiamo scegliere diversi processori di pagamento il mio consiglio è di utilizzare clear junction perché vabbè le fee sono praticamente identiche con con tutti ovvero non ci sono fee di deposito quindi in questo caso non ci interessa clear junction supporta anche il bonifico sepa istantaneo quindi se voi volete acquistare subito per dire potete farvi un bel bonifico istantaneo vi arriva immediatamente su kraken e potete già utilizzare i fondi ok quindi voi dovete andare a impostare questi dati che vedete qua sotto nel destinatario del vostro bonifico l'iban in particolare con tutti questi altri dati e attenzione nella causale del bonifico dovete mettere questa stringa alfanumerica che vedete comparire sotto riferimento e anche kraken.com quindi attenzione a mettere tutta la stringa con cioè fate proprio copia in colla con tanto di spazi eccetera eccetera e con tanto di kraken.com in fondo in questo modo i fondi vengono accreditati al vostro account è un modo per dire a kraken che l'account è il vostro se si fanno degli errori qui attenzione perché o i fondi vi vengono rispediti indietro oppure vi potrebbero chiedere l'identificazione di livello superiore quindi con il con la verifica dell'indirizzo eccetera 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 ok per il prelievo è esattamente la stessa cosa quindi quando volete prelevare ad esempio euro potete scegliere il metodo e qua potete vedere le commissioni esempio clear junction 90 centesimi di commissione e attenzione anche qua c'è il bonifico istantaneo molto molto comodo per quanto riguarda invece i depositi e i prelievi di cripto è molto simile nel senso per depositare bitcoin io clicco su deposito e andrò a generare un nuovo indirizzo la prima volta che io vado a depositare ovviamente non avrò nessun indirizzo e ne devo generare uno attenzione che se ne può avere un massimo di 5 se io ne vado a creare un sesto il più vecchio scadrà dopo sette giorni quindi attenzione perché non si può andare a generare una quantità infinita di address tenetevi lì quelli che avete e sappiate che se ne generate più di 5 i vecchi vanno a scadenza il che non vuol dire che perdete i fondi che avete depositato in passato lì ma in futuro non potete più utilizzarli per fare dei depositi per quanto riguarda invece il prelievo le commissioni sono bassissime molto molto più basse della concorrenza per prelevare bitcoin ad esempio abbiamo 0,00015 bitcoin di commissione se pensate che binance applica 0.0005 capite già che è decisamente più conveniente anche in questo caso dobbiamo semplicemente aggiungere un indirizzo alla nostra whitelist vi ricordate il discorso sicurezza noi se abbiamo impostato l'autenticazione a due fattori aggiungiamo un indirizzo lo confermiamo con l'autenticazione a due fattori e poi ci rimane salvato in modo da avere una whitelist degli indirizzi affidabili non che arriva uno ne aggiunge uno a caso e preleva tutto questo è sempre per il tema sicurezza in alternativa è possibile anche andare ad acquistare cripto direttamente utilizzando una carta di credito o debito ma vi anticipo già che ci sono delle commissioni più sfavorevoli quindi secondo me è preferibile fare piuttosto un bonifico istantaneo e andare ad acquistare utilizzando poi il saldo depositato sul proprio conto in euro come si fa a fare i primi acquisti allora andiamolo a vedere subito partiamo dal metodo più semplice ma con commissioni più alte quindi attenzione a utilizzarlo è pensato per chi veramente non sa che cos'è un limit order un market order e vuole semplicemente il tastone compra ok quindi se voi andate su compra cripto questo qua evidenziato in alto voi potete scegliere quale cripto volete comprare quanto a montare in euro ne volete comprare e poi qua sotto io adesso non ho euro depositati quindi non compare vi comparirebbe il tastone compra lo stesso con la vendita e lo stesso con la conversione ok quindi questo è una sorta di modo più semplice possibile per comprare vendere o convertire esattamente anche da qua potete andare ad aggiungere una carta di credito o di debito e andare a fare un acquisto diretto tramite essa vediamo le commissioni perché la semplicità si paga come vi dicevo per acquistare utilizzando una carta c'è una commissione del 3,75 per cento più 25 centesimi di euro mentre per fare un acquisto istantaneo con il nostro bilancio in euro il nostro a montare in euro depositato su kraken qui dice no fi però attenzione che viene applicato uno spread che non è basso ve lo dico quindi ripeto non conviene utilizzare questo metodo a meno che uno non sappia proprio nulla del dell'operatività tradizionale quindi semplicemente non sa neanche piazzare un market order cosa che tra poco vediamo quindi abbiate un po di pazienza e voglia di applicarvi e vedrete che risparmierete tante tante commissioni andiamo adesso a vedere quindi come si utilizza l'exchange tradizionale ovvero andare a posizionare ordini di acquisto o di vendita su kraken in questo caso le commissioni come vedete si abbassano fino ad arrivare ad un massimo in base al volume movimentato se noi movimentiamo tra 0 e 50 mila dollari avremo delle commissioni da market taker ovvero market order 0,26 per cento mentre market maker ovvero limit order 0,16 per cento le commissioni poi andranno a decrementare con l'aumentare del volume movimentato per utilizzare l'exchange chiamiamolo tradizionale ci sono due tipologie di interfacce alle quali si accede cliccando trade qua in alto c'è l'interfaccia chiamiamola tradizionale che è questa che vedete che a sua volta ha tre livelli di difficoltà semplice intermediate o avanzato che aggiunge di volta in volta delle peculiarità agli ordini si può customizzarli sempre di più aggiungendo stop loss varie cose che vedremo tra poco e poi c'è l'interfaccia pro alla quale si accede cliccando questo grafichino che a discapito del nome secondo me è più immediata ed intuitiva insomma io mi trovo con mi trovo trovo più familiarità in questa interfaccia qui in ogni caso noi le vediamo nel dubbio entrambe partiamo da quella tradizionale semplice che di fatto si è la più facile di tutte è immediata se uno vuole banalmente comprare o vendere questo credo che sia il metodo più immediato in assoluto io innanzitutto qua sopra vado a scegliere il mercato la coppia sulla quale voglio andare a operare oppure la posso scegliere anche no non è vero lo posso scegliere nell'intermediate da questo menu a tendina ma nel semplice no quindi la devo scegliere per forza da qui se vedete xbt non vi spaventate perché è semplicemente un modo diverso uno standard diverso di scrivere bitcoin quindi non è un derivato non è niente di strano è un bitcoin spot perché questo è un exchange spot ok i futures li vediamo più tardi qui banalmente posso comprare o vendere bitcoin selezionando l'ordine di tipo market o limit quindi qua vedete tornando alle commissioni se scelgo limit avrò le commissioni da maker se scelgo market avrò le commissioni da taker ok quindi considerate questa cosa qual è la differenza che banalmente un ordine a mercato viene eseguito immediatamente al prezzo attuale di bitcoin quindi io inserisco qui quanti bitcoin voglio comprare 0,0005 per esempio qui mi calcola automaticamente il valore in euro stimato ok e poi basta acquisto mentre se io voglio scegliere io il prezzo di acquisto ad esempio ad un prezzo più basso allora scelgo l'ordine limite ok cosa vuol dire vuol dire che io vado a dire a che prezzo voglio acquistare adesso vale 49.600 io voglio acquistare a 45.000 euro e allora metto il mio ordine limite e lo lancio sull'order book ok ordine a mercato eseguito subito ordine limite va a finire sull'order book a quel prezzo se bitcoin non scende a quel prezzo lì non mi viene mai eseguito ok questa è la differenza per la vendita vale esattamente la stessa cosa al contrario il prezzo limite attenzione se io vado a fare un acquisto deve essere più basso del prezzo di mercato attuale altrimenti perde di senso e bisognerebbe utilizzare uno stop limite che lo vediamo tra poco se al contrario io voglio vendere il prezzo limite deve essere più alto del prezzo attuale bene quindi questo è il il metodo l'interfaccia semplice se andiamo su intermediate ci vengono aggiunti alcuni dettagli come la possibilità di utilizzare la leva quindi di usare ma di fare margin trading questo è margin trading spot è quindi non sono futures vi ricordo e quindi io tendo solitamente a sconsigliare l'uso del margin trading per operare in leva è molto più comodo usare i futures se si vuole operare speculativamente perché se io vado a usare la leva sullo spot incorro in commissioni sia in apertura ulteriori alla commissione cioè che si vanno a sommare alla commissione classica e inoltre ho una commissione ogni quattro ore ok quindi è la commissione per tenere aperto il prestito perché il margin trading significa che io prendo in prestito fondi per amplificare la mia posizione quindi oggi do per scontato che non usiamo leva sullo spot e poi andiamo a vedere invece nel caso in cui si utilizzino i futures andiamo a vedere lì l'operatività speculativa perché a mio parere è molto più vantaggiosa sotto diversi punti di vista in primis le commissioni e la semplicità in questo caso come ulteriore parametro che si può inserire abbiamo l'inizio ovvero la data e ora in cui l'ordine viene messo a mercato possiamo sceglierla oppure banalmente possiamo mettere adesso e la scadenza quindi esempio se io voglio andare a inserire un ordine adesso però dirgli lo voglio andare a mettere sul mercato domani e farlo scadere domani sera io glielo posso dire in questi due menu non ci sono commissioni aggiuntive per questo il resto è esattamente identico ok anzi no c'è un'altra cosa una piccola chicca posso scegliere se pagare le fee in bitcoin o in euro non le va sicuramente a cambiare ma mi permette appunto di scegliere se io sia bitcoin che euro sull'account kraken posso scegliere dove addebitare le fee infine se andiamo a scegliere la versione avanzata mi permette di inserire più tipologie di ordini e questo è assolutamente importante secondo me per chi vuole mettere giù un trade completo per quale motivo perché di fatto vedete noi possiamo scegliere market limit che sono i classici che abbiamo visto finora stop loss assolutamente importante take profit altrettanto importante stop limit take profit limit che è più raro secondo me utilizzarli salda posizione è un po complicato perché non so come spiegarlo è per il margin trading è il settlement della posizione in sostanza se voi volete andare ad aggiungere margine alla posizione in leva voi dovete fare salda posizione ma dimenticatevelo perché non ci interessa non complichiamoci la vita inutilmente noi oggi vediamo stop loss take profit e i rispettivi limit allora innanzitutto secondo me stop loss e take profit hanno senso se si va a fare una cosiddetta chiusura condizionale ovvero esempio io voglio mettere un ordine di acquisto supponiamo a mercato quindi semplifichiamoci la vita acquistiamo mercato adesso acquistiamo un bitcoin ok inizio adesso fin che non lo cancello senza leva pago le fee in euro scegliamo e chiusura condizionale stop loss quindi vado a proteggere il mio ordine in che modo allora scegliamo il prezzo di stop si può scegliere o direttamente in euro ad esempio chiudo l'ordine in perdita se scende se arriva a 45 mila euro ok io taglio le perdite oppure posso dirgli se scende di 1000 euro quindi se il prezzo di mercato si abbassa di 1000 euro allora chiudo l'ordine in perdita oppure in percentuale se scende del 5 per cento io chiudo l'ordine in perdita ok questo è come andare a inserire lo stop loss allo stesso modo io posso andare anche a inserire un take profit ovviamente superiore e non inferiore questo per andare contemporaneamente all'inserzione dell'ordine all'inserimento a mercato dell'ordine a mettere un livello di stop loss o take profit assolutamente consigliabile per chi appunto fa dei trade e non un semplice acquisto lo stop loss limit e il take profit limit hanno come differenza il fatto che oltre al prezzo di stop noi dobbiamo inserire anche il prezzo limit cosa vuol dire allora lo stop loss come abbiamo visto prima banalmente se il prezzo scende a una certa soglia lui vende ok in questo caso se metto uno stop loss limit io gli dico che se il prezzo scende sotto una certa soglia lui mi va a inserire un ordine limit quindi gli devo dire anche il limit price al quale inserire l'ordine in questo caso io ho messo un ordine di acquisto quindi il prezzo di stop deve essere più alto del prezzo attuale è un ordine che dice praticamente all'exchange se va ad arrivare sopra un certo prezzo tu metti un ordine d'acquisto a quest'altro prezzo che è il prezzo limite invece con la vendita funziona come abbiamo detto prima se il prezzo scende sotto un certo una certa soglia tu vai a mettere un ordine di vendita a quest'altro prezzo che è il prezzo limite personalmente io non li uso quasi mai gli ordini stop limit tendo ad utilizzare gli ordini limit norma cioè scusate gli ordini stop normali per proteggere appunto una posizione il classico stop loss lo stop limit può avere senso se ad esempio lo vado a mettere sopra una resistenza per dire se il prezzo pompa fin lì allora vai a inserire l'ordine a quel prezzo lì è l'unico caso in cui vedo sensato l'utilizzo dello stop limit andiamo invece a vedere tutto questo come si traduce sulla piattaforma sull'interfaccia cosiddetta pro allora ve l'ho detto per accedere si clicca il grafichino e si viene catapultati qua e sostanzialmente qui c'è da scegliere la coppia da questo menu non so se avete già visto questa interfaccia il sito si chiamava crypto watch e sostanzialmente è stato acquisito da kraken e ci ha costruito sopra la sua piattaforma pro da qua ripeto si può scegliere la coppia sulla quale si vuole andare a operare e si può scegliere il time frame si può mettere la stellina per andarla a inserire nella propria watch list che viene poi elencata qua sotto qui possiamo andare a inserire alcuni indicatori e oscillatori di analisi tecnica possiamo scegliere le candele tra candele normali e ikinashi un grafico a barre a linee eccetera 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 è molto customizzabile e poi si può andare a inserire vari disegni varie linee varie caselle di testo insomma si va a configurare davvero come ci piace di più il grafico è un simil trading view ecco vediamolo in questo modo inoltre abbiamo la depth chart quindi il grafico del di quanto c'è sull'order book in offerta e in domanda poi abbiamo l'order book stesso che potete vedere qui e abbiamo l'elenco dei trade eseguiti qui sulla destra invece abbiamo il pannello degli ordini che come vedete è molto compatto molto semplice compra o vendi la tipologia di ordine e infine qua sotto abbiamo quantità prezzo tutti quei campi che abbiamo visto di là poco fa però tutti compattati in un unico riquadro quindi io lo trovo più comodo non c'è niente di più e niente di meno di quello che abbiamo visto prima cambia soltanto la disposizione e la rappresentazione la leva in questo caso è uno slider che si può far partire da nessuno cioè uno per fino a 5 per tutto qua in realtà le commissioni sono esattamente identiche cambia ripeto soltanto la l'interfaccia grafica se clicchiamo su advanced ci viene mostrata soltanto la durata e la currency quindi in che cosa pagare le commissioni niente di più niente di meno qualora invece si voglia optare per un'operatività più speculativa come vi dicevo prima è consigliabile rispetto all'uso del margin trading usare crack and futures c'è una leva fino a 50 per ci sono commissioni molto più basse e c'è una maggior liquidità per accedere a crack and futures si può fare in due modi o dalla pagina versamenti quindi saldo account qua vedete c'è futures trading oppure da questa icona con quattro quadratini potete selezionare il terzo che è proprio futures trading venite reindirizzati a kraken futures che ha un'interfaccia molto simile a quella pro e dovete innanzitutto loggarvi potete utilizzare lo stesso account che avete usato su kraken quindi l'account è il medesimo non serve andare a crearne un altro il primo punto importante da capire come funzionano i futures che differenza c'è allora i futures che trovate su kraken sono i cosiddetti inverse perpetual cosa vuol dire allora inverse vuol dire che utilizzano come collaterale non la stable coin dollaro usdt o quello che è ma l'altra coin esempio bitcoin dollaro ha come collaterale bitcoin ok da lì inverse perpetual vuol dire che sono quei derivati senza scadenza quindi dei future che non scadono ma hanno il cosiddetto funding che li tiene agganciati al prezzo del sottostante come funziona ogni ora non come su binance che ogni otto ore qui è ogni ora viene pagato dai long agli short o viceversa questo found funding questa tariffa di funding viene chiamata se la tariffa è positiva significa che gli short i long scusate pagano gli short se è negativa gli short pagano i long questo ripeto per tenere agganciato il prezzo del perpetual al sottostante una volta capito questo allora penso che avrete capito che bisogna andare a depositare bitcoin se si vuole operare su bitcoin dollaro ethereum se si vuole operare su ethereum dollaro eccetera 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 come si fa allora vedete qua sotto ci fa vedere quanto abbiamo a disposizione al momento nel futures wallet zero noi abbiamo scelto bitcoin vedete se sceglieva sceglievamo ethereum potevamo andare a scegliere a depositare ethereum e così via attenzione una cosa che non vi ho detto di default c'è il perpetual ci sono anche quelli a scadenza volendo non c'è il funding ma il il prezzo vedete diverge dal prezzo del perpetual e del sottostante qua entra in gioco anche il discorso cash and cari volendo ne abbiamo parlato in diverse occasioni ma una delle caratteristiche del future a scadenza che più lontana è la scadenza e più il prezzo diverge dal sottostante questo ad esempio che scade a settembre di quest'anno è a 67 mila mentre il prezzo di bitcoin attuale a 59 mila 60 mila dollari ok quindi questo è un po il discorso dei futures adesso andiamo a capire come depositare quindi dobbiamo innanzitutto trasferire dal nostro wallet spot al nostro wallet futures quindi qua dobbiamo scegliere depositare e ci dice deposita dal kraken spot wallet quindi ritorniamo su kraken ci rimanda a kraken ci rimanda in questa pagina e noi da qui facciamo ad esempio per bitcoin per ethereum clicchiamo qua di fianco e facciamo trasferimento e ci permette di trasferire dal wallet spot al wallet futures senza commissioni una volta fatto questo ci viene depositato nel cosiddetto holding wallet ovvero un wallet dedicato a futures però non impegnati in posizioni se io voglio andare a mettere del margine del collaterale per aprire una posizione devo fare un ulteriore trasferimento dal cosiddetto holding wallet mettiamo bitcoin che forse è più chiaro dal holding wallet al futures wallet ok perché perché poi di fatto quello che ho in ogni coppia futures wallet mi viene utilizzato come collaterale per quella posizione quindi cosa vuol dire vuol dire che se io metto tre bitcoin nel holding wallet e un bitcoin nell'xbt usd futures wallet io posso aprire posizioni fino a 50 bitcoin di controvalore leva 50 per e nel peggiore dei casi se vengo liquidato perdo quell'un bitcoin che avevo nel futures wallet è il mio margine ok in qualsiasi momento posso andare a incrementare o ridurre il margine spostando dal holding wallet al futures wallet il concetto di liquidazione è importante se si parla di leva perché qualora io vado a utilizzare una leva maggiore di 1 ad esempio per 2 anche se vado long con leva per 2 e il prezzo si dimezza di bitcoin io vengo liquidato perché ho preso in prestito metà della posizione quel meno 50 per cento mi brucia la mia metà io rimango senza niente e perdo tutto quello che ho sul mio margine ok che differisce dal holding wallet quindi questo è importante da comprendere ma fa parte delle dinamiche dei futures ne abbiamo già parlato tanto ma vale la pena sottolinearlo perché di fatto stiamo usando dei futures per quanto riguarda le tipologie di ordine sono esattamente identiche a quelle che abbiamo visto fino a poco fa se non che ce n'è una ulteriore che è molto utile tra l'altro e la trovate non da questo pannello ma cliccando più qua in alto e scegliendo ordine bracket in sostanza l'ordine bracket altro non è che una posizione da aprire ok long o short che sia con già un take profit e uno stop loss preimpostati ok molto comodo e molto semplice anche qui potete scegliere limit o market e la stessa cosa poi per il take profit e lo stop loss in questo modo potete andare a inserire tutto in una volta sola poi ve li vedrete rappresentati sul grafico molto molto comodo un'altra cosa da sapere assolutamente è la differenza tra long e short che ho dato per scontato la posizione long si prevede un rialzo e si guadagna sul rialzo la posizione short invece guadagna sul ribasso non cambia il funzionamento degli ordini ma ovviamente nello short si sta vendendo e si riacquista più in basso nel long si sta acquistando e si rivende più in alto un consiglio che mi sento di dare a chi è nuovo del mondo dei futures è utilizzare il conto demo per impratichirsi come si fa allora se voi andate vedete sul vostro profilo qua in alto a destra e andate a cliccare fai pratica nel nostro sito demo vi apre demo futures.kraken.com e qui vedete potete crearvi un account fittizio che ve lo crea lui in automatico non non dovete neanche ricordarvi le credenziali ve lo crea in automatico vi precarica un po di fondi delle diverse coin e voi potete giocare un po a mettere ordini e a rimuoverli eseguirli e così via così da impratichirvi per l'appunto cosa assolutamente fondamentale se si vuole operare con i futures perché qua si rischia davvero di farsi male i futures vanno usati se si sa molto bene cosa si sta facendo una volta che si vuole rispostare i profitti o i fondi sull'account spot per venderli per incamerare i profitti in euro a quello che è si trasferisce da qua di nuovo all'account spot e poi si va a vendere dal nostro account che abbiamo visto prima parlando di commissioni per quel che riguarda kraken futures sono estremamente competitive perché partono da un massimo se voi avete un volume basso entro i 100.000 dollari di 0,05 per cento taker quindi market order e 0,02 per cento maker pazzesco sono veramente veramente basse ultima cosa per concludere lo staking molto interessante per chi vuole mettere a rendita un po delle crypto che utilizza che deposita che scambia insomma visto che qua si può fare un po di tutto comprare vendere speculare sui futures è bello che ci sia anche lo staking per rendere completo il servizio è tradotto partecipazione che insomma è abbastanza ghiacciante come traduzione ma è quello qua potete vedere quali crypto è possibile mettere in staking allora purtroppo in italia è molto molto limitato perché in realtà kraken offre un servizio di staking molto più completo questo è lo staking on chain quindi in sostanza lo staking classico no infatti quelle che vedete qui sono tutte crypto proof of stake polkadot kusama eccetera eccetera beh molti so che sono soddisfatti del fatto che si può mettere in staking polkadot con un bel 12 per cento di ricompense annualizzate anche kusama e anche altre coin interessanti anche ethereum con ethereum 2.0 però ripeto se fossimo stati in uno stato in cui era concesso anche lo staking off chain si poteva mettere a rendita anche gli euro anche bitcoin e anche tante tante altre crypto io per curiosità ho scritto all'assistenza e mi hanno detto che stanno lavorando comunque per permettere lo staking off chain anche in italia una questione di regolamentazione banalmente penso quindi che sia questione di tempo detto questo per fare staking è veramente banale basta cliccare su partecipazione e ovviamente io non posso ma una volta fatto io semplicemente vado a inserire la somma che voglio vincolare in questo account staking e lo confermo e basta poi vedrete che viene viene dedotto dall'account spot e viene inserito nell'account staking io mi rifiuto di chiamarlo partecipazione e per svincolarli è la stessa cosa esattamente all'opposto estremamente semplice zero commissioni e molto molto comodo per chi vuole detenere più a lungo termine queste coin amici io ho terminato spero di aver toccato tutti i punti in ogni caso se avete altre domande non esitate mi raccomando a farmele nei commenti così io vi rispondo e poi la risposta potrebbe essere utile anche agli altri amici che ci seguono vi faccio un carissimo saluto vi ricordo il mio referral link se avete apprezzato il mio lavoro e se volete in qualche modo contribuire per voi a costo zero e alla prossima